guardate da stamattina era brutto che giornata che è uscita e sto scendo a vedere che giornata sprendita è no sole a manetta tutto aperto c'era andiamo a fare un geletto vedete che giornata fantastica che è uscita da stamattina adesso il sole che splende la gente è uscita sta uscendo bello lo sapevo che usciva la giornata ve l'avevo detto stamattina che usciva il bel tempo che bello ragazzi vi devo dire che spettacolare dovete venire se potete venite perché vi piacerà a tutti sicuro questo ha messo anche i tavolini fuori proprio di permesso Don Pepe e Don Pepe questo è un bel locale guardate la gente che c'è guardate 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 sono usciti come è uscito il sole sono usciti tutti queste cose vedete li stessi guardate guardate la gente che c'è guardate le persone che scegda vedete guardate attaccende io Vedete quanta gente c'è? Che bello, che bello, che bello, che bello. Che bello. Sì. Vedete, pensavano il bagno, le due persone, fanno il bagno. E vai. Guardate come si diventano questi bambini, guardate. Anche qua c'è pure tanta gente. Si fanno il bagnetto, i piccoletti, i grandi, non è tanta pulita però. Qua c'è la passeggiata. Vedete? Guardate, guardate. Bello. Sì, veramente wow. Guardate che sono uscito, guarda. Non me l'aspettavo che c'era tutta questa gente in giro. Questa è il passeo marittimo. Guardate la gente che c'è nel locale che mangia, guardate. Vedete? Pieno il locale sul mare, pieno. E il mio capo non apre perché non lo sa perché. Quasi va su e si torna. Vedete? Questo barro è pieno. Vedete? Vedo che c'è gente. Oggi in giro c'è gente. Quest'altro è stacolo. Per se li avevi. Vedete che c'è fuori. E via. E poi guardate i video. E la polizia locale. Vedete.